Sono trascorsi 16 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco di Catania Enrico Trantino. Tra brevi apparizioni e visite istituzionali si attende il varo della nuova giunta. Non ci dovrebbero essere problemi per i già designati Sergio Parisi, Alessandro Porto e Andrea Guzzardi in quota Prima Italia Lega. Altri nomi stanno circolando ma ancora non confermati. Certo, siamo già in notevole ritardo. La città si aspetta concretezza e soprattutto fatti. In questo momento storico Catania è sepolta viva dalla spazzatura. Bande di ladri cercano di colpire ovunque. Ricordiamo la cattura da parte di un cittadino in via Mandrà. Lavoro e progetti in tal senso manco a parlarne. Insomma abbiamo capito che sono state aperte le spiagge 1, 2, 3, solarium eccetera eccetera. Ma quando questa città comincerà a deliberare e concretizzare il programma elettorale? Direi che ora di dire basta alle beghe politiche per una poltrona di assessore. Iniziamo a restituire dignità a questa nostra cara Catania. Nel frattempo continua e inesorabile l'agonia di tutti i catenesi nella speranza che presto arrivi questo comunicato stampa con data e ora, mettendo fine e staccando la flebbo per una rinnovata azione di governo. Chi vuole però da questo fine settimana potrà andare al mare, sì sì alla playa, sperando che non ci rimanga solo questo.